Buongiorno amici, bentornati nel mio canale. Questa è la seconda parte della serie di video su come imparare a disegnare un volto. Nel primo video che ho già pubblicato, che tra l'altro vi metto nella descrizione, vi ho fatto vedere come creare velocemente uno sketch su quello che vogliamo disegnare creando la struttura base. In questa seconda parte invece vedremo come prendere le misure precise per creare un volto più realistico senza però farlo diventare uguale a tutti gli altri, lasciando sempre spazio alla creatività e al nostro stile. Questo è molto importante per creare qualcosa di unico che sia riconoscibile e riconducibile a noi stessi. Quindi, ora andiamo a disegnare come sempre e poi ci vediamo dopo, a fine video. Allora, io ho fatto qualche scarabocchio e ho capito che alla fine la posizione della testa che voglio dare è questa. La volpe la voglio mettere un po' dietro, un po' nascosta, poi metterò qualche fiore. Comunque manca un pezzetto di corpo. Fiori qui e ci siamo. Poi mi sono fatta qualche ricerca e ho cercato le immagini. Quindi, la volpe sarà questa. Ho guardato anche altre posizioni. Mi sono anche cercata delle foto per capire quanto deve essere grande la volpe rispetto alla ragazza. Vedete un po' di posizioni diverse. Queste qui, un primo piano. Ecco, questa sarà la ragazza che andremo a disegnare oggi. I fiori, poi i fiori. E me li tengo tutti in una cartella, qua, così almeno li trovo subito. Io oggi disegnerò direttamente sul foglio 100% cotone che è fatto apposta per colorare con gli affarelli. Poi, reghellini, gomma pane, gomma normale, gomma matita e poi diverse matite. Queste qui sono tutte diverse, sono dalla 4H alla 6B. Quindi, dopo vedremo. Ok, questo è un formato a 3, quindi è bello grande. Adesso, con il mio iPad, vado a cercare la misura giusta da posizionare. Più o meno così, la voglio bella grande. La faccio. Faccio qualche screen perché l'importante è che stia attento. che ferma l'immagine. E adesso vediamo. Per iniziare parto da questa immagine, che è quella un po' più centrale. E ci sono tutte le parti fondamentali del viso. Orecchie, naso, bocca e occhi. Faccio il rettangolo esatto dell'iPad. Me lo disegno qua. Adesso mi tengo da parte, come siete più comi di voi. Iniziamo a disegnare con una matita con una grafite più dura, come una 2H, per dare un tratto molto più leggero alla struttura del disegno. Per partire, iniziamo e teniamo la matita in questo modo. e troviamo con la punta della matita il punto che vogliamo segnare e con le punte delle dita il bordo dell'iPad che ci siamo segnati. Abbiamo questo riferimento e facciamo così. Questo è un punto un po' lungo. Si fa più fatica, però. Poi, segniamo la fine della pelle del volto e lo segniamo qua. Come vedete è molto semplice. Con la matita si fa molto veloce. Se no, se vogliamo essere più precisi, prendiamo il righello e ci prendiamo ogni punto che vogliamo trovare, come la bocca. Ci troviamo anche tutte le altezze per inquadrare bene ogni parte. E continuiamo così per ogni punto che vogliamo trovare. Se siete meno pratici, usate il righello. Se preferite essere invece più veloci, usate la matita. Basta prenderci un po' la mano. Noi facciamo tutti i nostri punti. Poi, dopo che abbiamo trovato i punti, magari li chiudiamo dentro un rettangolo, dentro un quadrato, dentro un triangolo. E così. E andiamo avanti. Come nella bocca, basta trovare questo punto qui e questo punto qua. E poi, e chiudiamo in un rettangolo. e andiamo avanti così. Ok, ho trovato tutti i punti di riferimento che potevo trovare. Adesso mi manca l'ultima parte di testa, quindi cambio foto e partendo da un punto che mi avevo già segnato come l'angolo dell'occhio, faccio così con la matita, trovo il punto che mi serve e voilà. Questa è la fine della testa. Ora che noi sappiamo, avendo visto il video dello sketch, che qua c'è un cerchio. Quindi cerchiamo di arrotondare il più possibile e troviamo la nostra capoccia. Ora che abbiamo anche la fine della testa possiamo continuare. Cosa c'è da fare adesso? Dobbiamo soltanto unire i punti e creare il volto. Negli occhi si unisce da questo punto a questo. Io ho preso questo punto qui che è l'angolo e un angolo. Di solito prendo tutti angoli. Poi mi sono presa l'altezza di questo occhio. Mi sono presa la misura da qua a qua per cercare di capire quanto è aperto. Poi si fa una lunetta e poi anche quella sotto. Non bisogna mai dimenticare che comunque le palpebre hanno uno spessore. quindi bisogna sempre fare la rima dell'occhio. La pupilla invece facciamo sempre un cerchio ma mai che si vede intero a meno che il volto che stiamo disegnando è un volto con gli occhi proprio sbarrati. Poi in tutti gli occhi c'è questa piega anche negli occhi di volti più orientali c'è sempre magari più vicina proprio a questa riga qui però comunque non bisogna mai dimenticare di farla perché se no sembra un volto poco realistico. Qui potete immaginare liberamente il suono di una musichetta felice mentre disegno e faccio esattamente quello che vi ho fatto vedere nello scorso video mi raccomando guardatelo perché dico delle cose importanti che possono servire per tutti. Io nel frattempo sono sul mio terrazzo che mi rilasso e guardo i bombe volare alti nel cielo. Adesso che abbiamo unito tutti i punti possiamo iniziare a fare le ombre. Io le cerchio sempre facendo questi cerchietti perché mi piace poi faccio così e poi le sfumo un po' con il dito faccio così per tutto il volto divertitevi un po' a fare queste ombre un po' a sentimento un po' a patiugare con le dita che che bello usare le dita con una matita puntita o una matita meccanica e deve essere anche per esempio un HB una B una matita più morbida ma non di quelle troppo morbide come una 3B quelle le useremo alla fine andiamo a rifinire tutti i nostri elementi vi faccio compagnia con la mia voce in questo timelapse come state ragazzi come trascorrete la vostra quarantena ormai io non capisco più niente a volte guardo i vasetti dello yogurt c'è scritto la scadenza il 4 maggio e penso che sia già scaduto io non capisco più niente adesso vi faccio vedere un piccolo trucchetto per fare le ciglia allora prima di tutto non bisogna disegnarle dritte ma bisogna sempre disegnarle curve e partendo da qua andando verso il basso e poi su da qua giù su e poi bisogna fare un cerchietto sotto la linea della parte un pallino e poi dall'altro lato del pallino fa partire un'altra linea in pratica sono due linee che poi si vanno a incontrare sulla punta questa è una facciamo qua si può anche fare prima il pallino c'è un pallino e vedete vedete più sono verso l'esterno più si vanno a piegarsi proprio verso l'esterno per così dobbiamo immaginarci delle frecce che in centro sono completamente verticali e poi mentre vanno in giù come delle lancette si mettono in orizzontale però sempre curve ma dritte ecco qua quella centrale facciamo il cerchietto da una parte facciamo la linea e dall'altra pure e non io di solito non la coloro dentro poi più vanno verso l'interno dell'occhio e più sono corte quindi dobbiamo stare attenti e anche piccole qui non è proprio in centro però poi aggiungiamo qualche peletto solitario senza calcare troppo come gli altri ed ecco fatto per fare quelle inferiori io magari a volte non faccio il pallino faccio solo le linee così sempre un po' che si incrociano senza esagerare con la matita 2b vado ad intensificare le parti più scure che voglio valorizzare di più come gli occhi qualche punto magari così così proprio i punti più scuri quelli che alla fine verranno praticamente neri o per dare un po' più di definizione in alcuni angoletti ecco qua io direi che ci siamo che dite questo risultato non sono andata oltre con i capelli perché poi vado a disegnare tutti i fiori e qua metterò la volpe bene anche questo video è finito nel prossimo ovvero nel terzo video la terza parte vi farò vedere come creo i colori per fare i toni della pelle spiegandovelo perché ho già fatto un video per quello però ovviamente non ho spiegato nulla perché ho avuto dei problemi vari tecnici comunque vi farò vedere la pelle poi magari qualche colore per fare le labbra le ombre eccetera poi vedremo anche nel corso del video cosa verrà fuori quindi come sempre se avete qualche suggerimento da darmi scrivetelo nei commenti che io li leggo sempre e vi saluto e ciao